L'improvvisa scomparsa di padre Vincenzo Sorce ha lasciato tutti i sgomenti. Era un uomo che non si è mai risparmiato e che ha sempre cercato di portare aiuto e conforto a quanti ne avevano bisogno. Ha fondato diverse associazioni, la più conosciuta è ovviamente Casa Famiglia Rosetta, ma padre Sorce aveva portato un po' di luce e speranza in quei posti dove la miseria e il degrado sono condizioni costanti che fanno parte della quotidianità. Per far comprendere chi era e cosa faceva padre Sorce ai pochi che non lo hanno conosciuto o lo hanno conosciuto poco, grazie al comunicato inviatoci da Giacomo D'Agostini dell'ufficio stampa di Casa Famiglia Rosetta faremo un escursus di quello che è stata la sua vita. Don Vincenzo Sorce, oltre ad essere fondatore e presidente di Casa Famiglia Rosetta, era anche presidente regionale e vicepresidente nazionale dell'ARIS, l'associazione che raggruppa le strutture sanitarie di matrice cattolica. Dopo aver fondato negli anni Ottanta a Caltanissetta l'associazione Casa Famiglia Rosetta per dare sostegno ad alcuni disabili ha poi gradualmente steso e moltiplicato il suo impegno su varie frontiere del disagio. Ha creato la comunità Terra Promessa per il recupero dei tossicodipendenti e poi centri e servizi per il trattamento di altre dipendenze, alcolismo, ludopatia a Caltanissetta e in altre città della Sicilia. Da molti anni Casa Famiglia Rosetta è presente in Brasile con strutture per il sostegno e il trattamento dei disabili e una comunità per il recupero delle tossicodipendenze. Più recente l'impegno in Tanzania anche qui per i disabili e per gli ammalati di AIDS. Oggi nelle strutture di Casa Famiglia Rosetta gli utenti sono oltre 1200. L'associazione, che occupa anche circa 200 dipendenti, si distingue inoltre da molti anni per l'azione sul fronte della ricerca scientifica e della formazione di figure professionali, anche attraverso una convenzione con la Pontificia Facoltà Auxilium di Roma che ha autorizzato a Caltanissetta e a Partinico un corso di laurea per educatori professionali. Don Vincenzo Sorce era laureato in pedagogia e teologia e aveva insegnato per 30 anni nella Facoltà Teologica di Palermo. L'impegno in Casa Famiglia Rosetta era stato comunque totale e ne aveva raccontato e spiegato la nascita e la crescita e i valori guida in parecchi libri come Il Coraggio di Osare, Nuova Evangelizzazione e Scelta degli Uomini, Guarire le Ferite e così via. Per l'eccellenza, l'originalità e l'efficacia del progetto terapeutico di Terra Promessa, l'associazione fondata da Don Vincenzo Sorce era da molti anni partner dell'Agenzia dell'ONU per la lotta alle tossicodipendenze e ha organizzato numerosi corsi di formazione per medici, psichiatri e operatori di vari paesi dell'est europeo e dell'Africa. Tutto ciò che è amato cresce. Questa era una delle frasi che Don Vincenzo amava portare avanti e oggi ne è la riprova il fatto che tutto ciò che lui ha amato, con dedizione, impegno e costante spirito di sacrificio, è cresciuto, ha germogliato, creando e curando questa grande famiglia che si stringe nel ricordo di un grande uomo. Attestazioni di stima per padre Sorce che è stato un uomo di fede, porto sicuro per gli emarginati, arrivano da ogni dove. Il sindaco di Caltanissetta Giovanni Rubolo dichiara con grande sgomento appreso dell'improvvisa scomparsa di Don Vincenzo Sorce, una persona straordinaria e una preziosa risorsa del nostro territorio in campo sociale, scientifico e culturale. Sento di unirmi al dolore dei familiari, dei tantissimi dipendenti e di tutti coloro che in più di 40 anni di attività di Don Vincenzo Sorce hanno ricevuto i benefici delle sue azioni, molto spesso rappresentati dal bene stesso della vita, messa a repentaglio da tossicodipendenze, povertà e fame, emarginazione e discriminazione. Mentre la presidente dell'Associazione D'Antaligheri di Caltanissetta, Marisa Sedita, afferma, Don Vincenzo Sorce era una colonna portante della vita culturale e sociale del territorio, simbolo del volontariato nel mondo, sono profondamente addolorata. Lo conoscevo sin dagli anni settanta quando insegnava all'Istituto Tecnico per Geometri di Caltanissetta e dopo lunga riflessione decise di dedicarsi al sacerdozio con l'unico obiettivo di aiutare gli ultimi, gli emarginati, quelli che avevano maggior bisogno di aiuto e in questa direzione si è mosso concretamente negli anni successivi. Alla famiglia, alle associazioni da lui presiedute le più sentite condoglianze della Dante Alighieri di Caltanissetta. Ricordiamo che la Camera Ardente è stata allestita nella parrocchia immacolata di Sera di Falco, mentre domani, mercoledì 6 marzo alle 16.30, la salma sarà trasportata presso la sede di Casa Rosetta in Contrada Bagno a Caltanissetta. Giovedì 7 marzo alle 12 la salma sarà trasportata in cattedrale dove alle 16.30 saranno celebrati i funerali.